Rispondere all'odio dei leoni da tastiera con la generosità. Ci ha pensato l'assessore comunale di Pesaro Enzo Belloni, grazie a lui ora al parco di Soria davanti alla scuola Dante Alighieri ha una nuova giostra girevole che può essere utilizzata anche dai bambini costretti a muoversi in carrozzella. L'assessore l'ha voluta donare in particolar modo a Sofia, al suo fianco anche sabato scorso durante l'inaugurazione assieme ai genitori. Una giostra inclusiva che l'assessore ha pagato di tasca propria, spendendo esattamente 2.912 euro, gli stessi soldi che un leone da tastiera ha versato come risarcimento danni a Belloni dopo averlo insultato su Facebook. Prima che iniziasse il processo per difamazione, l'autore del posto offensivo verso Belloni e il padre defunto, sbeffeggiato per essere stato un partigiano, ha chiesto di pagare il risarcimento del danno e l'assessore ha accettato, chiedendo esattamente 2.912 euro, pari al costo della giostra, capace di promuovere il sorriso dei bambini. Il risarcimento ottenuto ci permette di rispondere a un'esigenza concreta di una bimba che in questo caso vicino a casa nel suo parco giochi non aveva un gioco che poteva condividere con le amiche. Ci auguriamo che questi episodi spiacevoli, specialmente in rete, finiscano qua e siamo solo particolarmente felici nel vedere gli occhi di Sofia felice per questo piccolo dono. La beneficenza e la solidarietà vanno reclamizzate perché devono servire come buon esempio. Non è l'unico perché sono due per fortuna i giochi inclusivi di questo parco, il secondo, anzi il primo installato è il dondolo, il dondolo al sesto. Siamo molto contenti, sì, e ringraziamo l'assessore Belloni.